Buona giornata e bentrovati da Fasi.biz. Ecco le principali novità della settimana. 13 miliardi di euro di prestiti messi a disposizione della Banca Europea degli investimenti BEI per supportare progetti riguardanti l'energia, i trasporti, le infrastrutture educative, la ricerca, la sicurezza alimentare e la ricostruzione di zone colpite da calamità naturali. Via libera anche al supporto economico degli istituti di credito locali che finanzano le attività delle PMI. Ad oggi la BEI ha approvato oltre 777 milioni di euro di finanziamenti facenti parte del fondo di investimenti strategici del cosiddetto piano Juncker. Adottati sette nuovi programmi per la cooperazione trasfrontaliera in Europa, quattro dei quali vedono l'Italia a collaborare con paesi vicini come Croazia, Grecia, Slovenia e Svizzera. L'Unione Europea contribuisce alla realizzazione di questi programmi con oltre 740 milioni di euro grazie al Fondo Europeo per lo sviluppo regionale e allo strumento per l'assistenza pre-adesione. I programmi si concentrano sui bisogni specifici dei territori coinvolti con particolare attenzione all'innovazione delle piccole imprese locali, alla tutela delle risorse culturali e naturali, alla mobilità lavorativa e alla cooperazione tra istituzioni pubbliche e organizzazioni della società civile. La Commissione Europea sollecita un maggior contributo dei fondi strutturali e di investimento europei al piano Juncker. Per il periodo 2014-2020, aggiungendo ai 450 miliardi di fondi strutturali e di investimento, il cofinanziamento dei 28 paesi europei si arriva un totale di 637 miliardi di euro per un totale di circa 500 programmi approvati. I fondi a disposizione dell'Italia montano a circa 44 miliardi di euro. Si trà il 14 e 15 gennaio a Bruxelles l'evento Verso Nuovi Orizzonti, ricerca e innovazione responsabile in Europa e nel mondo intero. L'evento organizzato dal Comitato Europeo Economico e Sociale e dal consorzio Go4 mira a stimolare il dibattito tra i principali protagonisti europei della ricerca e dello sviluppo nel campo scientifico. La partecipazione all'evento è gratuita, ma è necessario preiscriversi sul sito del Comitato Europeo Economico e Sociale. Era la nostra ultima notizia dell'anno, buone feste a tutti voi e arrivederci al 2016! Grazie a tutti!